Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi, oggi siamo a Salice Terme e tra poco chiederemo un pregio e un difetto ai cittadini che la abitano. Andiamo a sentire. Ma guardi, ho incontrato la persona sbagliata perché io sono una cittadina, vivo qua a mio malgrado e non è che proprio ami molto vivere in paese, però il pregio può essere il verde, i difetti, la notturna molto movimentata. La reputa un difetto? Soprattutto d'estate sì, per noi residenti sì. Quali sono i principali disagi causati da questo? La musica è molto alta e la gente che fa casino, cioè per carità tu puoi uscire anche alle tre di notte da un locale, però sali in macchina e te ne vai, non schiamazzi di notte eccetera. Questo dà un po' fastidio, ci si abitua per carità, perché poi però insomma, secondo me... Secondo lei l'economia di questo paese non è basata proprio su quello? Sì, adesso sì, adesso sì. Prima? Eh beh, prima c'erano le terme, c'erano gli alberghi, c'era la gente che veniva a fare le cure, era tutto pieno, era un altro mondo, adesso è tutto, vedete anche voi. Quindi pregio verde, difetto, vita notturna, caotica? Caotica e poi, vabbè, per quanto mi riguarda il paese in sé, cioè io che sono una cittadina, amo la città, per cui il paese mi sta un po' stretto, però vabbè, ci devo vivere, pazienza. Il pregio sicuramente è le terme, però il difetto è che sono chiuse adesso e quindi non so se si riaprono bene, però se non riaprono non so se meno gente verranno, ecco. Crede che oltre alle terme qui inizia difficile trovare un ulteriore pregio a salice terme? No, il pregio poi in estate c'è le due piscine che sono molto belle, vengono tantissimi turismi, vengono tante, io sono anche già straniera, sono venuta qua da Genova, però le terme in inverno portavano un sacco di gente. Sicuramente il pregio è che d'estate il paesino si riempie, quindi discoteche aperte, bar aperti, è un difetto che d'inverno, come vedete, non c'è nessuno in giro e è così, però comunque a salice rimane un bel posto, c'è il parco, quindi rispetto alle altre città qua intorno c'è molto più verde, è molto più bello secondo me, quindi io preferisco vivere qua rispetto a Cavoghera. Una tua concittadina, intervistata pochi minuti prima di te, ha detto che la vita notturna estiva è invece un difetto di salice terme. Sì, può essere per gente che è un'età un po' più grande così, perché ovviamente c'è più casino qua in giro, ci sono più ragazzi che girano per i bar così, quindi può risultare un difetto tra virgolette, ma io lo vedo come un pregio, più gente c'è meglio è qua per me. Grazie.